Buongiorno a tutti ragazzi, oggi ricomincia la settimana, è lunedì, quindi forza e coraggio, dai che il weekend è ancora lontano, però questo è un lunedì speciale, perché è un lunedì che ci porta a giocare una semifinale di ritorno europea, è un lunedì che ci porta a capire se questa stagione potrà concludersi in qualche modo, in maniera inaspettata e quindi con un trofeo da andarci a giocare, oppure se le uniche cose che ci rimarranno da qui alla fine del campionato saranno inerenti soltanto a leggere notizie dai tribunali, quindi non voglio nemmeno immaginare una prospettiva di questo tipo, dobbiamo andare a Siviglia e cercare di vincere una partita che sarà sicuramente più complicata e difficile rispetto a quella che abbiamo visto con la Cremonese, cerchiamo di andare un po' più nel dettaglio con l'analisi dei singoli calciatori, l'analisi dell'allenatore e cerchiamo di fare il punto della situazione di quelli che sono stati i 90 minuti disputati allo stadium, vi ricordo che oggi alle 15, ogni 15 alle 15 esce un nuovo episodio di Tutti i Teorici, quindi ci vediamo sul canale YouTube di Tutti i Teorici e ovviamente se poi accadrà qualcosa di importante, interessante nel pomeriggio potremo venire a fare due chiacchiere qui sul canale anche se in realtà ho già in mente un tema e nel caso sviluppiamo quello lì, vi ricordo che qui sopra nelle schede c'è ovviamente il video post partita uscito subito dopo il triplice fischio di Juventus Cremonese, io vi ricordo di lasciare un mi piace a questo video, di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto dato che comunque l'iscrizione è completamente gratis, vedo che dalle statistiche tante persone guardano i video anche se non sono iscritti, potete sempre cambiare idea nel caso, potete disiscrivervi, ma se siete qui sul canale e state continuando a osservare video è perché siete interessati e quindi unitevi alla community che stiamo tutti più tranquilli. Voto 7 Massimiliano Allegri, è vero che la Cremonese ci ha messo del suo, nel senso che è stata una partita molto tranquilla anche per demeriti della Cremonese e limiti più che demeriti della Cremonese, però credo che comunque la Juventus abbia avuto una quadra ben delineata, un obiettivo ben chiaro e quindi tenere la Cremonese lontana dall'area di rigore della Juventus cercando il palleggio sempre e comunque nella metà campo degli avversari, una cosa che non vediamo così spesso, in realtà in stagione tante volte abbiamo giocato contro squadre che non erano proprio più forti della Juve, anzi, in più di un'occasione abbiamo sofferto, abbiamo subito e abbiamo lasciato dei punti importanti per strada, basta pensare all'aprile che abbiamo vissuto e nonostante quell'aprile in cui praticamente abbiamo vinto due partiti con soltanto uno in campionato, siamo secondi in campionato a più tre sull'Inter e quasi aritmeticamente qualificati alla Champions League per quanto riguarda i risultati appunto di campo. Questo ci fa capire anche quanto è stata strana questa stagione, quanto ci potessero essere dei margini per fare decisamente meglio, soprattutto con una rosa del genere, soprattutto senza essere poi rimasti in Champions League, insomma tanti rimpianti da parte della Juventus, è stato audace, secondo me Allegri, con schierare una formazione simile perché ci sono stati diversi elementi titolari e quindi alla faccia del turnover che doveva esserci praticamente non c'è stato, insomma è l'unica cosa sulla quale possiamo davvero discutere questa sera lato Massimiliano Allegri è appunto l'utilizzo di Pogba, sapete già come la penso, per me Juventus-Cremonese non era assolutamente la partita giusta per cercare di far mettere dei minuti nelle gambe a Pogba, è ovvio che qualcuno potrà dire sì col seno di poi siamo bravi tutti, però chi mi segue anche su Twitch o su Twitter saprà bene che avevo espresso dei seri dubbi inerenti alla prima partita del titolare di Paul Pogba proprio in questa occasione, proprio perché poi giovedì c'era una gara importante col Siviglia, avrei preferito vedere Pogba per 25-30 minuti col Siviglia in caso di necessità perché la ritiene una partita decisamente più importante rispetto a questa con la Cremonese che comunque ci poteva vincere secondo me anche senza Pogba come poi è avvenuto, quindi questo è proprio il pelo nell'uovo tra virgolette, che tanto pelo nell'uovo non è perché purtroppo la gestione di Pogba secondo me andava centelinata meglio, gestita meglio, però per tutto il resto invece da quello che abbiamo visto in campo la Juventus ha sul classato Cremonese come giusto che sia, come logico che sia e l'allenatore si becca il 7 in pagella. Senza voto a Perini proprio per andare in questa direzione di una squadra in campo la Juventus, è una squadra che ha provato ad essere in campo la Cremonese con pochi risultati, veramente non abbiamo mai subito dei veri e propri pericoli e io spero che all'uscita dallo stadio qualcuno abbia chiesto i soldi del biglietto anche a Mattia Perini, spettatore non pagante. Voto 6 e mezzo a Danilo che secondo me volontariamente si becca un cartellino giallo per riposare, tirare fiato con l'Empoli anche poi in vista della partita di campionato col Milan che si giocherà la settimana successiva il 28 di maggio all'Allianz Stadium, Danilo aveva assolutamente bisogno di riposare, non potrà farlo appunto giovedì in Europa League e lo farà invece in campionato in una partita un po' più tranquilla contro l'Empoli. Credo che bene o male Danilo abbia fatto il suo, difficilmente gli attaccanti alla Cremonese sono arrivati nell'area di regola da Juve, questo perché comunque i tre centrali difensivi hanno giocato una buonissima partita. 7 a Bremer che oltre ad aver giocato una buonissima partita poi ha trovato anche il gol su calcio d'angolo, Bremer rientrato da quel problemino che aveva avuto e quindi completa disposizione in vista di giovedì dove servirà assolutamente, sentivo che facevano una riflessione ad Azon sull'utilità di un difensore come Bremer piuttosto che uno come Bonucci nel cercare di marcare attaccanti come il Nesre o Rafa Mir, appunto i giocatori centravanti del Siviglia, sono assolutamente d'accordo, sarà una partita nella partita molto interessante quella di Bremer contro i due giganti appunto della squadra spagnola allenata da Mendilibar. Voto 6,5 a Gatti che come al solito quando gioca poi ci mette tutta la grinta del mondo, è bello vedere che comunque Gatti sta trovando i suoi spazi e ovviamente dopo il gol non poteva che essere così, è bello vedere che Gatti si sta prendendo comunque anche in mano un po' la leadership di questa Juventus, mi ha fatto molto ridere un ragazzo durante la reaction quando Gatti ha preso palla e è partito sulla destra e ha detto Micio Hernandez, chiaro riferimento a Teo Hernandez, quindi d'ora in avanti ha un nuovo soprannome e in area di rigore è sempre un pericolo, poi questa volta ha fatto gol Bremer, Gatti ha esultato insieme a Bremer, Gatti che ha segnato l'ultimo gol della Juventus con la maglia che vedete appunto in grafica, ci sono ancora le grafiche vecchie perché non ho avuto modo di modificarle, ovviamente con già tutti i giocatori nuovi e quindi si apre una nuova era e poi vedremo se in realtà in Europa League saremo costretti comunque a utilizzare una maglia vecchia perché magari ci sono degli accordi differenti in Europa, non è una più pallida idea, ma per quanto riguarda la Serie A non vedremo ovviamente più questa maglia utilizzata dalla Juventus, l'ultimo gol è stato segnato da Gatti, è l'ultimo respiro col Siviglia ed è il giocatore che ci dà una sorta di speranza in più in vista della partita dei giovedi. Voto 6 a Quadrado, anche lui secondo me si è preso il giallo volontariamente, anzi più volontario quello di Quadrado probabilmente rispetto a quello di Danilo per cercare di tirar fiato, siamo sempre di quella, devi fare straordinario in vista di giovedì perché sulla destra non abbiamo tutte queste opzioni, partita nella norma di Quadrado che si becca a 6. Voto 7 a Fagioli che cresce col passare del tempo, una sorta di diesel Fagioli in questa partita, soprattutto quando c'era Pogba avevamo visto poco Fagioli, quando è uscito Pogba è salito in cattedra Nicolò, segno anche che comunque è difficile trovare una sorta di unità di intenti quando ci sono diversi giocatori tecnici perché poi secondo me la leadership tecnica l'ha tirata su Fagioli proprio con l'uscita di Pogba, Fagioli fa un gol meraviglioso, Fagioli fa tante altre belle cose all'interno della partita e io ripeto è un mistero come non abbia fatto nemmeno un minuto col Siviglia, è un mistero come in questo finale di campionato un giocatore come Fagioli sia stato un pochino accantonato, io capisco l'errore di Reggio Emilia, capisco che possa aver avuto un momento emotivo particolare con quelle lacrime però ragazzi mi pare di capire che Fagioli e Rabiot sono imprescindibili ai lati del centrocampo in questa Juventus con Locatelli come volante davanti alla difesa, come la metti la metti, li abbiamo visti tutti, li abbiamo visti girati però questi tre sono quelli che hanno dato più garanzie in totale in stagione e ancora una volta della sblocca Fagioli che secondo me non bisogna nemmeno più fare l'errore di vederlo come un ragazzo giovane, ormai Fagioli è un giocatore, è un classe 2001, stiamo parlando del ragazzino di 18-17 anni che ti viene su, no, è un classe 2001 come Kvarascheia, è un giocatore fatto e finito, è un giocatore che sicuramente ha dei margini di miglioramento importanti perché ha ancora un'età media molto bassa, ma Fagioli è un giocatore, cioè è un giocatore che devi considerare al pari di quegli altri, è un calciatore, non è un giovane ed è un calciatore importante, che fa cose importanti e che fa vincere la Juventus. 8-6 e mezzo, Paredes che secondo me ha fatto una partita molto molto bella, scherzavo nel video post partita dicendo cavolo ma non ha preso neanche un giallo che solitamente invece Paredes si procura sempre almeno un cartellino, si porta a casa un ricordo in ogni partita da parte degli avversari quando i ritmi sono così bassi perché comunque la partita tra Juventus e Scrimonese è stata una partita a ritmi bassi quando c'è da muovere la palla, quando c'è da gestire la palla, credo che Paredes possa portare a spasso un po' tutti in giro per il mondo ovviamente perché quando si alzano i ritmi diventa sempre un po' più pericoloso anche magari far giocare Paredes che poi nel post partita ha spiegato che in stagione ha avuto momenti difficili perché inizialmente non stava bene e queste cose gli hanno procurato dolori che gli hanno fatto perdere il posto da titolare. Non credo che giovedì vedremo Paredes titolare, credo che poi Locatelli andrà a riprendersi il suo posto davanti alla difesa. 6 e mezzo Rabiot che sbaglia questo stop, mannaggia, che poteva portare la Juventus poi su un 3-0 finale salvato sulla linea da Chiriches, Rabiot fa la sua partita comunque di sostanza all'interno del match non trova un nuovo gol che l'avrebbe portato ancora più su nella classifica cannoniere della Juventus e vale il discorso che facevo prima per Fagioli, lui e Nicolò sono davvero le due mezze alle titolari di questa Juventus e danno sempre quel qualcosa in più all'interno del centrocampo. Una grossa differenza rispetto all'anno scorso per il centrocampo è stato invece spesso argomento di dibattito, è vero che quest'anno giochi a tre l'anno scorso spesso e volentieri gioca a via due e Rabiot era spesso e volentieri sacrificato in una posizione non sua quindi quella di esterno-sinistro nel 4-4-2 storto. Volto a 7 a Federico Chiesa che gioca tra virgolette come esterno-sinistro nel 3-5-2 perché non so se avete notato il meccanismo di difesa della Juventus che variava nel senso che quando attaccavamo, attaccavamo effettivamente con un 3-5-2 con Chiesa e Quadrado sugli esterni quando si difendeva invece si aveva un Fagioli molto stretto e si andava a formare questa linea 4 con Quadrado per permettere a Chiesa di non dover scalare, di non dover andare a fare una copertura difensiva questo ha permesso comunque a Chiesa di sfruttare due o tre ripartenze importanti in cui aveva più metri davanti a disposizione c'è stata una palla che ha messo dentro per Milik che non è riuscito a concretizzare c'è stata quella palla che poi era impallata e poi ha tirato in porta ed è stato murato dopo un'accelerata super poi c'è stata quella giocata per Niccolò Fagioli sono tre giocate individuali di Chiesa, tre spunti individuali di Chiesa che non ha ancora trovato la miglior condizione fisica si vede, è palese, è ripeto, ripeto, comunque di Juventus-Cremonese è stato un match giocato a bassi ritmi non si è mai aumentato tanto e quando Chiesa strappava, nonostante appunto il momento non ancora positivo beh, si vede la differenza semplicemente perché Chiesa è un giocatore speciale e questo gol di Fagioli meraviglioso nasce proprio da Chiesa che fa lo slalom all'Alberto Tomba in mezzo ai birilli che sono i giocatori della Cremonese sicuramente in Europa sarà diversa, io nemmeno mi aspetto Chiesa titolare secondo me sarà insieme a Vlaovic una delle due armi partite in corso da inserire per Massimiliano Allegri che molto probabilmente quindi non potrà contare su Paul Pogba ma domani, in seguito, anzi oggi perché voi vedrete il video lunedì mattina in seguito agli esami strumentali sapremo sicuramente di più su Pogba io mi auguro che possa rientrare ma secondo me la stagione è finita però Pogba si porta a casa 6 e mezzo perché secondo me nei 22 minuti che ha giocato era stato in assoluto il migliore in campo il primo tempo della Juve è stato brutto poi la Juve ha aumentato le possibilità ha aumentato la volontà di andare a segnare di andare a chiudere la partita nel secondo tempo il primo tempo, ripeto, è stato molto brutto e all'interno di questo primo tempo quello che più di tutti secondo me era in partita era proprio Pogba vuoi perché tornava a titolare dopo 13 mesi vuoi perché aveva voglia vuoi perché comunque stava trovando un po' più di confidenza era un paio di partite che tirava anche in porta e avevo sempre paura quando tirava in porta e poi il muscolo ha mollato proprio su un altro non so neanche se chiamarlo tiro o cross perché secondo me poi Pogba non voleva cercare lo scavino voleva semplicemente crossare è uscito pure male e il muscolo ha fatto toc vedremo per quanto ne avrà secondo me non lo vedremo più in campo da qui, alla fine dell'anno è ovvio che si può parlare di sfortuna certo, si può parlare di sfortuna ma la verità è che in questo momento Pogba è decisamente distante dagli standard di un atleta professionista qualcuno secondo me non esagerando ma quasi perché comunque è una cosa che si può dire dice non è più un calciatore sicuramente in questo momento non è un atleta non ha il fisico che regge i livelli di stress di qualsiasi cosa i livelli a cui deve sottoporsi il fisico di un atleta in questo momento assolutamente no assolutamente no e parla la sua cartella clinica parla la sua storia e non so se tornerà mai a dei livelli accettabili per essere un calciatore davvero per essere un atleta davvero ma me lo auguro tanto perché io sono profondamente innamorato di Paul Pogba cioè quando lo vedo giocare mi stropiccio sempre gli occhi e il calcio è stato veramente crudele non credo che si possa parlare di sfortuna proprio perché Pogba in questo momento è injury prone sappiamo bene tutte le difficoltà però si può parlare di crudeltà perché il calcio è stato veramente crudele nel mostrarci un giocatore così incredibile e poi togliercelo in maniera così davvero cattiva 8-5 Vlaovic 8-5 Vlaovic che è ancora abbastanza lontano dagli standard su cui secondo me dovrebbe militare Vlaovic è vero che non gli arrivano chissà quante palle giocabili l'ho visto sbattersi di più stasera rispetto alle ultime partite traduco non ad aspettare la palla là in fondo un paio di occasioni spalla la porta della giocata ma tante volte è venuto a fare da raccordo è venuto a centrocampo a smistare dei palloni segno che comunque vuole entrare un po' di più all'interno dei meccanismi di gioco però per un attaccante poi serve fare gol serve tirare in porta a creare delle occasioni ripeto la Juventus non ha creato chissà quali occasioni per gli attaccanti perché non è assolutamente venuto questo infatti Milik si becca 5-5 però c'è ancora tanta tanta differenza tra la pulizia tecnica di uno stop di un raccordo di Milik e di uno stop di un raccordo di Vlaovic cioè sono proprio due livelli superiori diversi magari Vlaovic nemmeno ci arriverà mai a quei livelli perché Milik è molto più elegante Vlaovic è decisamente più grezzo e la partita di Milik non è stata strepitosa anzi entra per rilevare Pogba infortunato poi esce per far spazio a Kane quindi una sostituzione, un ingresso una roba strana quella di Milik però cavolo Vlaovic Vlaovic come deve migliorare in queste cose qui deve migliorare in queste cose qui e poi ovviamente tutti e due non hanno avuto possibilità di fare gol voto 6 a Ealing che entra cerca addirittura di procurare il suo rigore che secondo me non sarebbe stato nemmeno scandaloso da attribuire Milik tra l'altro aveva fatto gol nell'unica occasione che aveva avuto fuori gioco millimetrico nella stessa azione in cui Ealing cerca di procurare il suo rigore ovviamente fosse stato regolare il voto di Milik non sarebbe stato 5 e mezzo ma è quel classico momento in cui fai una partita un po' così e poi fai gol e quindi il gol ti pompa il voto ma non perché tu abbia fatto una buona prestazione ma perché il gol ti porta sempre ad avere qualcosina in più Ealing che comunque sta continuando a entrare sempre con più continuità perché in questo momento è uno giocatore che ha più gamba di tutti in assoluto 6 e mezzo Di Maria che secondo me è entrato molto bene e finalmente finalmente posso dire che Di Maria è entrato molto bene l'ho visto volenteroso l'ho visto voglioso più che altro finalmente ho visto Di Maria che aveva voglia e che ha messo della qualità e che praticamente era fermo continuava a mandare in porta tutti i suoi compagni con visioni di gioco e passaggi filtranti veramente di altissimo livello che in squadra questa squadra possano fare probabilmente lui Pogba e pochi pochissimi altri quindi speriamo che Di Maria possa essere in formato super anche giovedì perché secondo me parte da titolare insieme a Milik senza voto a Barbieri entra ovviamente per pochi minuti così come senza voto a Ken che non so se avete notato pure voi mi sembra un po' più gonfio ma non ovviamente grasso quanto più gonfio nel senso di massa muscolare mi sembra aumentato di massa muscolare secondo me ha lavorato veramente tanto in palestra e vedremo se questa cosa sarà confermata oppure no però ho visto un Ken molto molto pompato e ragazzi queste erano le pagelle di Juventus Cremonese 2 a 0 io vi lascio una piccola piccolissima clip nel quale vi mostro le mie reazioni all'infortunio di Pogba al gol del 1 a 0 al gol di Milik annullato al gol del 2 a 0 dato che una live reaction sarebbe stata eccessiva per questi 4 episodi la partita è stata comunque abbastanza noiosa non è successo chissà che cosa vi rimetto al termine delle pagelle noi ci vediamo nel pomeriggio in caso di novità e sicuramente alle 15 sul canale di tutti i teorici un abbraccio e anche io avrei fatto un po' di turnover in vista del Sevilla infatti sono abbastanza sorpreso si è fatto male Pogba? 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 ma io non ho parole ma siamo dei dilettanti si è fatto male Pogba? si è fatto male Pogba? si è fatto male Pogba? Non ci credo Non ci credo Cioè non ci credo Me l'aspettavo più che non ci credo Ma va Ma dai Il punto è che È normalissimo Il problema è che è normalissimo Il problema è questo qui è che è normalissimo Piange eh? Pogba sta piangendo Sta piangendo Pogba sta piangendo Ci hai messo subito le mani in faccia Ha capito immediatamente Ha capito subito Che dispiacere Che dispiacere Quanto cazzo ti voglio bene Quanto mi dispiace Quanto mi dispiace Quanto mi dispiace di sta roba Vai a chiesa Vai a chiesa Bravo Bravo Faggio Mi salta tutti chiesa Chiesa Fagioli La confessionano Meravigliosa Ah gol dell'ex Gol dell'ex Ecco perché Gol meraviglioso di Fagioli Davvero bellissimo E gran slalom di Federico Chiesa Vediamo se la palla è rimasta in campo Ma mi sembrava di sì L'han costruita Fagioli e Chiesa Fagioli larga Lunga per Chiesa Chiesa punta Slalom Surf E poi l'indietro per Fagioli L'hanno fatto loro due Sto gol cazzo E ce li ha tutti i due titolari Il fantacalcio E vai Sì Eccolo Il gol di Bremer L'abbiamo chiusa Finalmente Sta cazzo di partita Glaison Alla terza occasione Tipo di testa Che ha avuto L'abbiamo chiusa L'abbiamo chiusa L'abbiamo chiusa L'abbiamo chiusa � Grazie.